A volte, quando nella vita va tutto bene, l'istinto umano ci spinge a rimanere dove siamo. È la nostra zona di comfort, tutto perfetto, tutto secondo i piani. Le cose vanno nel verso giusto. Perché quindi cambiare strada rischiando di buttare tutto all'aria? Mark Marquez rinnova con la Honda in MotoGP per i prossimi 4 anni. È uno dei più grandi talenti della storia di questo sport, con 6 mondiali vinti nelle ultime 7 stagioni. Perché cambiare squadra quando si hanno questi numeri e perché stravolgersi la vita rivoluzionando tutto? Lo spagnolo, per ora, preferisce rimanere con la casa giapponese, quella che ormai si potrebbe definire casa sua. Scelta logica. Lì dentro è maturato il suo vero spirito ed è nato il campione che conosciamo oggi. Il sogno delle Ducati di vestirlo con i colori della rossa finisce di nuovo nel cassetto. L'otto volte campione del mondo non ha voluto concedersi il regalo di per ora vincere con altre moto. I curiosi dovranno pertanto aspettare. Grazie.